il problema del semaforo a taglio di po via kennedy incontro con via romea e io ho fatto filmato che c'era una fila di macchine da quasi dall'incrocio dell'aliper fino qua solo qua con l'assessore davide marangoni che ci spiega il perché mi sembra di essere un pochino capitano ventosa di strisciare la notizia spiegaci perché il semaforo fa rosso anzi rimane molto spesso rosso rimane molto spesso rosso sì allora faccio rispondo a capitano ventosa insomma allora il nostro semaforo praticamente ha dei sensori che rilevano la presenza di auto poco tempo fa hanno fatto i lavori esattamente venerdì scorso hanno fatto i lavori perché hanno dovuto asfaltare la tua strada e quindi ha dovuto riposizionare delle sonde queste sonde sono quelle che rilevano la presenza di auto se le auto non passano sopra le sonde il semaforo rimane rosso per cui è necessario praticamente avvicinarsi più possibile al semaforo in modo che le sonde rilevino la presenza delle auto e conseguentemente poco dopo insomma scatta il verde perché va il ragionamento di priorità di presenza di auto e anche di priorità di presenza di auto fondamentalmente sono passati circa due minuti da quando abbiamo iniziato ed è appunto rosso sta passando la macchina è passata su appunto sul punto dove ci sono queste sonde quindi praticamente fin quando non passano macchine la priorità è in via romea e qua rimane rosso esattamente esattamente perché è una città è una strada cittadina dove passano maggiormente auto e siccome che la via Kennedy si incrocia con la via Anselmo Girotti abbiamo deciso praticamente per queste due strade di mettere le sonde in modo da mettere in sicurezza questi due questi due tratti principali lasciare un po più diciamo di movimento all'interno del centro urbano ecco la macchina è passata è passato il verde quindi a parte che dovete ancora ripristinare la segnaletica quindi saranno anche agevolati da questo la macchina passa appunto sui sensori le sonde ovviamente rilevano se rilevano solo un'auto fanno passare l'auto il massimo due perché durano di meno se invece c'è un flusso continuo come in questo momento che vedono passare di più hanno una maggiore tempistica per cui arrivano fino anche 40 mi sembra secondi per cui consentono praticamente il deflusso completo delle auto da rincrocio allora sviluppato il problema capite il problema da leandro capitano ventoso è tutto più